Meno burgrazia, meno tasse per favorire l'apertura di nuove attività e questo l'obiettivo del patto per l'attrattività tra il comune di Voghera, Confindustria, Camera di Commercio e i sindacati. Si chiama Street Control e della nuova tecnologia in dotazione alla Polizia Locale di Pavia, con una telecamera e un tablet i vigili potranno controllare in tempo reale gli sgarri degli automobilisti. Meno maestre ma anche meno iscrizioni, il comune di Vigevano vara la riforma degli asili ai cittadini, con il calo degli iscritti entro il 2018 chiuderanno due strutture, il Gusberti e il Troppola. Sono almeno quattro nelle ultime settimane furti sulle auto in sosta a Canneto Pavese, nel mirino dei ladri soprattutto le mamme che parcheggiano per andare a prendere i bambini all'asilo. Più di 600 richieste per un posto di lavoro e la mail per le candidature va in tilt e successo a Vigevano, dove il supermercato Lidl ha aperto le selezioni per una ventina di posti. Insieme fino alla fine lo slogan scelto dal Pavia Calcio per lanciare la campagna abbonamenti del girone di ritorno, gli azzurri intanto si caricano in vista della gara con la Propatria. Pavia Italia buonasera e ben ritrovati. Anche il Comune di Voghera ha sottoscritto il patto di attrattività delle imprese, patto tra l'altro già firmato a Pavia nei mesi scorsi. Si tratta in sostanza di un documento che indica una serie di misure come l'abbassamento delle tasse per attirare nuove aziende in città e rilanciare il tessuto produttivo. Il servizio è di Armano Bidone. Meno burocrazia e meno tasse per favorire l'apertura di nuove attività. E' questo l'obiettivo del patto per l'attrattività tra il Comune di Voghera e una serie di altri attori economici del territorio, tra cui Confindustria, la Camera di Commercio e i sindacati. Incentivi sicuramente anche dal punto di vista fiscale per le nuove aziende che vogliono inserire sul nostro territorio, facilitazioni, sportelli, uno sportello che possa accompagnare l'impresa per quanto riguarda le responsabilità e le autorizzazioni rilasciate dal Comune di Voghera, unico e quindi una facilitazione di questa natura. Le misure che dovrebbero riuscire ad incentivare le imprese verranno definite nel prossimo mese, poi la mini riforma dovrebbe diventare operativa, ma quanto potrà davvero incidere in un settore in difficoltà e andare oltre una semplice dichiarazione di intenti dipenderà anche da quante risorse il Comune riuscirà a trovare tra le pieghe del bilancio e soprattutto dall'evolversi della situazione economica generale. Ma al di là di questo per Confindustria servono regole chiare e procedure veloci, punti sui quali il Comune ha promesso di intervenire. La questione fondamentale sono regole chiare e procedure veloci e quindi servizi di accoglienza nei confronti degli imprenditori che devono sapere quali sono le condizioni alle quali possono fare i loro investimenti e con quali tempi farli. Questo chiaramente riguarda le nuove iniziative imprenditoriali, ma riguarda anche le imprese già esistenti. Le criticità sono due, far arrivare persone nuove che investano, ma anche mantenere le attività imprenditoriali che ci sono. Il sindacato è disponibile a recitare la sua parte a pieno e soprattutto è disponibile anche a fare accordi di azienda che possano facilitare questi insediamenti. L'Oltrepo e Voghera in particolare deve insistere su quelle che sono le sue vocazioni di produzione. È inutile che noi andiamo a pensare ad insediamenti estrani quando abbiamo tutta una serie di filiere che sono già interessanti e che già stanno funzionando. Di certo il Comune può fare molto perché, per esempio, noi abbiamo suggerito uno sportello che faciliti l'impresa perché non c'è niente di peggio di quello che si mette a fare azienda, magari da solo, magari con poche risorse, che poi perde giornate intere con la burocrazia e nel disperdio delle carte del tempo. Sono stati i condannati otto dei dieci imputati coinvolti nel processo sull'inceneritore della Riso Scotti. Gli imputati tra ex impiegati dell'impianto, chimici di laboratorio, responsabili delle analisi sui rifiuti e trasportatori, dovevano rispondere a vario titolo di truffa e traffico illecito di rifiuti nell'impianto al bivio Vela. Le pene vanno dagli otto mesi a un anno di reclusione proprio per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Lega Ambiente, che era parte civile nel processo, ha espresso soddisfazione per la sentenza, ma ha sottolineato la lentezza con cui ha dovuto operare il sistema giudiziario sei anni per una condanna di primo grado. Oggi è stata data attuazione concreta al principio chi inquina paga, ha dichiarato Barbara Meggetto, che è presidente di Lega Ambiente Lombardia, ONLUS. Voltiamo pagina a brutte notizie per gli automobilisti indisciplinati a Pavia. La polizia locale, nel capoluogo, ha adottato la tecnologia Street Control, che con una telecamera e un tablet permetterà di monitorare in tempo reale le infrazioni del codice della strada, ma anche il mancato pagamento, per esempio, di assicurazione e revisione. Mario Fortunato. Questa sia assicurazione che revisione. Una telecamera sul tetto della pattuglia ed un tablet ai vigili per controllare in tempo reale possibili violazioni. La vita per gli automobilisti sbadati o indisciplinati diventerà durissima con lo Street Control. Una tecnologia adottata da diverse città italiane, tra cui Milano, che dalle prossime ore sarà operativa ufficialmente anche a Pavia. C'è questa telecamera particolare montata all'esterno del veicolo, la pattuglia che gira, man mano che trova, vede una macchina che si trova in divieto di sosta, fa geolocalizzare, fotografare, geolocalizzare il veicolo in divieto. Dopodiché in automatico viene fatta la verifica su revisione ed assicurazione dell'auto e l'operatore deve convalidare la violazione, quindi deve verificare che la targa sia corretta quella che viene letta dallo strumento, perché lo strumento legge la targa in automatico. Un meccanismo molto semplice che consentirà alle pattuglie della polizia locale di risparmiare tempo controllando molte più auto con il cosiddetto metodo astrascico. Ma l'obiettivo, ha spiegato il comandante della polizia locale Crocco, non è di tartassare ulteriormente gli automobilisti del capoluogo. Pavia del resto è già la seconda città lombarda nel rapporto tra abitanti ed accertamenti. Oltre ai controlli su assicurazioni e revisioni, l'utilizzo dello street control permetterà di intervenire in quelle zone dove il divieto di sosta crea particolari problemi, per esempio sui marciapiedi, sulle piste ciclabili e in prossimità delle fermate degli autobus. Abbiamo la necessità di intervenire in qualche zona dove è un pochino più problematica la sosta selvaggia. Queste saranno le cose principali dove andremo a intervenire. Si partirà con due telecamere, ma entro breve tempo, ha confermato l'assessore alla partita Ruffinazzi, la dotazione del comando di via di resistenza verrà potenziata con altri apparecchi. È uno strumento che aiuterà a mantenere e aumentare la sicurezza in città sotto diversi punti di vista. Uno, andremo a colpire chi mette in pericolo gli altri automobilisti girando con macchine senza assicurazione e magari non revisionate, quindi non efficienti. E dall'altro punto di vista andremo a colpire chi non rispetta le regole del codice della strada. Rimaniamo a Pavia, ancora vandalismi nella zona del Ticinello, ma questa volta la polizia di Stato ha arrestato il responsabile. Si tratta di un tunisino di 40 anni, Valide Bejoui. L'uomo è stato sorpreso mentre spaccava i vetri delle auto in sosta utilizzando un sasso avvolto in un asciugamano per rubare oggetti di valore. Per sfuggire alla pattuglia l'uomo si è addirittura gettato in Ticino. Il quarantena è stato comunque arrestato dagli agenti per furto aggravato e resistenza pubblico ufficiale e condannato per direttissima nell'escorsione a un anno e due mesi di carcere a 200 euro di multa. Ancora cronaca, i carabinieri a Vigevano hanno invece arrestato uno spacciatore di 34 anni in un bar di via Riberia. L'uomo aveva con sé 30 grammi di asci, ci aveva appena consegnato una dose a un cliente. Gli uomini dell'arma lo hanno colto in flagranza di reato in un bar del centro, mentre stava passando una dose di droga ad un cliente. È finito in manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il 34enne di origine tunisina arrestato nelle scorse ore dai carabinieri di Vigevano. Lo spacciatore è stato sorpreso in un locale di via Riberia, a pochi metri dal liceo Cairoli. Al cliente, un 23enne del posto, aveva appena ceduto un sacchetto con 4 grammi di hashish. All'interno del giubbotto, il pusher, aveva un altro involucro che conteneva circa 26 grammi di stupefacente suddivisi in 20 dosi già pronte ad essere vendute e circa 70 euro in banconote di piccolo taglio. I militari hanno poi proceduto a una perquisizione domiciliare nell'abitazione della convivente italiana del 34enne in zona Cascame. All'interno di un mobile in cucina c'era dell'altro hashish e il materiale per il confezionamento della droga. L'operazione dei carabinieri rientra in una più ampia attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle zone attorno alle scuole, divigevano il pusher dopo le formalità di rito. È stato processato per direttissima il suo cliente di 23 anni. È stato invece segnalato alla prefettura di Pavia come consumatore. Migliorano le condizioni della 28enne di origine marocchina, coltellata a mercoledì sera da un connazionale a Ponte Curone. La giovane che aveva ricevuto delle avance dall'uomo si è rappresentata a casa sua con il marito che è stato poi accoltellato e ucciso. Germano Bidone. Nachila ce l'ha fatta, è fuori pericolo anche se i medici non hanno ancora sciolto ufficialmente la prognosi. Ma quella del miglioramento della 28enne marocchina è l'unica buona notizia nella tragedia accaduta ieri a Ponte Curone, un paese dell'Alessandrino, alle porte di Voghera. Suo marito Said, 45 anni, non ce l'ha fatta. È morto dopo essere stato raggiunto da 10 coltellate sferrate da un connazionale di 34 anni, Ahmed Belarussi, al culmine di un litigio scopiato proprio per lei. L'assassino, un lavoratore incensurato, così come la vittima, nel pomeriggio di mercoledì l'aveva trovata in piazza e l'aveva fatto un sacco di complimenti. Tornata a casa, lei l'aveva confessato al marito. I tre si conoscevano e il marito aveva subito chiesto al connazionale un incontro di chiarimento. Said e la moglie, verso le 21 di mercoledì, sono arrivati in questo palazzo di Via Fornaia, dove Ahmed vive da solo, ma i due hanno litigato e il 34enne ha ucciso il rivale a coltellate e ferito anche la donna che era intervenuta per difendere il marito. Ora l'uomo è in carcere ad Alessandria. Incidente nel pomeriggio sulla provinciale 40, a poca distanza dall'ingresso di Sizziano. Un camion si è scontratto con una smart sulla bretella che collega il paese a Melegnano. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti dell'auto, letteralmente sbalzata a diversi metri di distanza e quasi distrutta. Sono quattro i feriti, tre donne di 29, 49 e 59 anni e un uomo di 32 anni. Sono stati tutti trasportati a San Matteo di Pavia per le cure del caso. Nessuno di loro sarebbe comunque in pericolo di vita. Torniamo a Vigevano, dove il comune vara la riforma degli asili cittadini. Troppe le maestre che andranno in pensione e poche le iscrizioni per tenere aperte tutte le sezioni. Alcune strutture sono quindi destinate alla chiusura. Paolo Barni. Meno maestre ma anche meno iscrizioni. Il comune di Vigevano si ritrova a dover cambiare radicalmente il sistema degli asili cittadini. Tra il 2015 e il 2018 sono ben 32 le maestre che hanno raggiunto o raggiungeranno l'età della pensione. Di contro gli asili cittadini non stanno registrando il tutto esaurito. Nel 2015 sono rimasti liberi 30 posti nei nidi e 17 nelle materne. È un segno dei tempi. Gli asili a Vigevano sono stati costruiti per la maggior parte nei primi anni 70 e contemporaneamente sono state assunte molte maestre che ora stanno arrivando alla pensione. Le famiglie intanto fanno meno figli e tendono a non iscriverli al nido adottando soluzioni più economiche in famiglia. Il comune non può sostituire tutte le maestre che stanno lasciando il lavoro e si è quindi deciso per un piano di tagli che coinvolgeranno quasi esclusivamente i nidi. Con il prossimo anno scolastico si comincerà a non accogliere più iscrizioni per alcune sezioni. A luglio 2017 chiuderà Nido Gusberti, l'anno successivo il Trottola. Nelle strutture rimanenti verrà ridotto il numero delle sezioni e anche le materne saranno ridimensionate. Il comune ha deciso di procedere in questo modo evitando le soluzioni alternative come l'aumento delle rette o le esternalizzazioni del servizio. In questi ultimi mesi il sindaco e giunta si sono riuniti parecchie volte per trovare una soluzione a questo pensionamento di varie maestre. Nella situazione attuale abbiamo i nidi con un numero minore di bambini iscritti. Dopo varie valutazioni si è giunto appunto a questa programmazione in tre anni dove verranno modificati il numero sia degli iscritti ai nidi sia proprio delle sezioni dei nidi stessi. Un nido, il Gusberti, verrà chiuso definitivamente mentre a riduzione di numero di bambini ci saranno in altri nidi. 600 candidature in 24 ore, la mail va in tilt. In tantissimi hanno inviato il proprio curriculum per entrare a lavorare nel nuovo supermercato Lidl a Vigevano. Sono una ventina e circa i posti disponibili. Vediamo servizio. Dopo l'annuncio della convenzione fra Comune e Lidl per l'apertura di un nuovo punto vendita che prevede una quindicina di assunzioni con precedenza parità di competenze per i residenti a Vigevano, l'email dedicata alle candidature è stata presa letteralmente d'assalto. Molte persone si sono rivolte alla nostra redazione perché non riuscivano più a inviare il loro curriculum. La spiegazione è che la casella è stata intasata da centinaia e centinaia di domande. Lidl ha quindi inserito la possibilità di candidarsi direttamente dal proprio sito internet. Il reclutamento dovrebbe terminare con l'inizio della prossima settimana. È il segnale proprio della fame di lavoro che c'è. Quindi al di là di chi parla di ripresa, qui la realtà è completamente diversa purtroppo. Nel nostro piccolo è vero che 15-20 posti non cambiano sicuramente l'economia di una città, però sono un piccolo segnale. Io so che appunto avevo sentito Lidl ieri sera, nel giro di una giornata erano arrivate più di 600 mail. Quindi voglio dire, è chiaro che da un certo punto di vista è stato un successo. Poi dispiace ovviamente sapere che di questi 600 curriculum, che poi non so se saranno tutti di Vigevanesi, comunque le persone a cui si potrà rispondere in senso affermativo saranno solo una minima parte. Ciò non toglie che l'intenzione dell'amministrazione è che in future convenzioni questa, come dire, modello che riteniamo sia stato molto apprezzato, possa essere ripetuto. Quattro furti in un paio di mesi, l'ultimo solo qualche giorno fa a Ladri Scatenati, a Canneto Pavesi, inoltre po' da venire prese di mira, in questo caso sono soprattutto le auto lasciate in sosta dalle mamme che vanno a prendere i figli all'asilo e adesso il sindaco lancia l'allarme. Vediamo. Ci sono le mamme ancora nel mirino dei ladri a Canneto Pavese. L'ultimo episodio è accaduto nelle scorse ore. Una donna di 39 anni attorno a mezzogiorno ha lasciato l'auto dietro l'angolo della scuola per andare a prendere la figlia, ma tornata dopo pochi minuti l'ha trovata con un vetro rotto. La borsa lasciata sotto il sedile era appena stata rubata. Secondo alcune ipotesi la donna potrebbe essere stata seguita, dato che si era appena fermata al banco, ma poco distante, ma solo per una ricarica telefonica. Alla fine infatti il bottino è stato di pochi euro di un vecchio telefonino, ma i disagi per il furto di testere e documenti sono, come sempre accade, pesanti. Mi preoccupa un po' questo fatto che fanno questi furti sulle auto, vanno a prendere le borse delle mamme che portano i bambini alla scuola materna oppure alla scuola elementare. Direi appunto di stare molto attenti, di non lasciare nulla nelle macchine, ma soprattutto segnalare anche macchine sospette, persone sospette, segnalarli ai carabinieri, al municipio. Sono almeno quattro finora gli episodi simili accaduti negli ultimi mesi in paese, in quei casi erano state prese di mira le mamme che andavano a prendere i bambini all'asilo. Ma oltre ai furti nei giorni scorsi a Cannetto sono stati anche segnalati tentativi di truffa, come quella accaduta ieri a Pinarolo in via Bruno, dove un pensionato di 76 anni ha aperto la porta a due falsi tecnici a SM che sostenevano di dover fare dei controlli. Ma quando se ne sono andati, la camera da letto dell'uomo, che non si era accorto di nulla, era a suo quadro ed erano spariti oggetti d'oro e soldi custoditi in un cassetto. Assolutamente non fate entrare nessuno. Io avevo messo degli avvisi in paese, le società dell'acqua, del gas, eccetera, prima di far uscire le persone avvisano. Perciò se non siamo avvisati non fate entrare nessuno. Sbarca anche a Pavia possibile il movimento lanciato dall'ex democratico Pippo Civati, un partito che vuole essere a sinistra del PD alla presentazione ufficiale, però c'erano anche gli esponenti di tanti altri partiti della sinistra che si sono posti un interrogativo importante. Sentiamo. Dopo Podemos in Spagna, ecco possibile il movimento lanciato dall'ex democratico Pippo Civati, un partito di sinistra e che nasce a sinistra del PD per rispondere a quella parte di elettorato rimasta delusa dalle politiche del premier Renzi. Ieri sera in Santa Maria Gualtieri, possibile, ha fatto il suo debutto ufficiale anche a Pavia con gli interventi dell'onorevole Pastorino e dei rappresentanti dei due primi comitati nati sul territorio, i Centopassi e la Zanzara. Serata che si è sviluppata attorno ad una domanda, quale centro-sinistra è ancora possibile? Diciamo che è un futuro da costruire, noi siamo sinistra, possibile un partito nettamente di sinistra, con ideali di sinistra e quindi ci rendiamo conto che non è facile al momento parlare di un centro-sinistra. Iniziamo qui il discorso stasera, però noi siamo un partito alternativo al PD per ora che è il partito principale del centro-sinistra, ambesso poi che sia ancora di centro-sinistra. PD che ha partecipato alla serata con il segretario cittadino Ramat, presenti anche i partiti storici della sinistra, a cominciare da Rifondazione Comunista, Selle e Radicali, fino ad arrivare a movimenti locali come Insieme per Pavia. Ma sono stati soprattutto i rapporti con il Partito Democratico a tenere banco, visto che anche a livello locale e a guida di provincia e capoluogo. Bisognerà fare un ragionamento, stante anche le attuali politiche a livello cittadino del Partito Democratico, non riteniamo facile ovviamente un dialogo, anzi al momento la distanza è notevole, poi per carità che il Partito Democratico possa anche a livello cittadino fare qualche buona politica, questo non si può negare a priori. I rapporti con il PD insomma sono ancora un progetto da lavoro in corso, così come la partecipazione a livello locale alle prossime elezioni amministrative. Tempo e poco però ci sono già alcune scadenze elettorali, le provinciali, le elezioni in diversi comuni importanti della provincia, sarà il primo banco di prova anche per testare possibile in provincia di Pavia? Ovviamente quando una forza nasce, gioco forze, insomma i riflettori sono soprattutto sul nazionale e quindi per quanto riguarda le amministrative sulle più grandi città, arrivare nei comuni più piccoli e già essere formati in poco tempo è qualcosa che non è facilissimo. Ci fermiamo un momento, c'è la pubblicità, ci vediamo nella seconda parte con lo sport. Eccoci tornati in studio, passiamo allo sport come sempre con la nostra rubrica Casa Pavia. Il club azzurro ha lanciato la campagna abbonamenti per il girone di ritorno, c'è tempo fino al 5 febbraio per le sottoscrizioni, intanto i giocatori si caricano in vista della partita contro la Propatria. Cesare De Giorgi. Noi ci crediamo. Insieme fino alla fine, è lo slogan scelto dal Pavia Calcio per lanciare una campagna abbonamenti legata al girone di ritorno del campionato di Lega Pro. Un messaggio forte, che la società di Via Alzaia vuole esprimere per rilanciare le proprie ambizioni di vertice, che dista al momento 5 lunghezze, nonostante l'attuale sesto posto in classifica occupato dai pavesi. 8 gare al Fortunati, che dovrà diventare un fortino inespugnabile per le avversari, con il dodicesimo uomo in campo rappresentato dalla tifoseria azzurra, pronta a fare la voce grossa per sostenere la squadra e portarla alla vittoria, credendoci appunto fino alla fine. Dal 18 gennaio al 5 febbraio sarà possibile presso la sede della società sottoscrivere l'abbonamento del girone di ritorno per curva sude e distinti. Fino a fine! Nel frattempo prosegue la preparazione in vista della trasferta contro la Propatria, in programma domenica pomeriggio, una sfida che diventa fondamentale vincere per mettere pressione alle squadre attuali leader del campionato, Alessandri e Cittadella. Mister Brini, con ogni probabilità, opterà per una difesa 4 più coperta, che vedrà nel ruolo dei centrali, ma l'uomo e siniscalchi, con Giringhelli e Marino impiegati sulle fasce. Centrali di centrocampo saranno con ogni probabilità Pirrone e Pavano. Sulla destra favorito Gerbach per una maglia da titolare nel balottaggio con il neoquisto De Silvestro, mentre sulla fascia opposta Manconi dovrebbe giocare dall'inizio. In attacco verrà schierato il confermatissimo tandem Cesarini-Ferretti. Restando in tema di biglietti, prosegue la prevendita per la trasferta di Busto Arsizio, che resterà aperta attraverso i costruetti canali di vendita fino alle 19 di sabato. Il Lions Club Vigevano Host ha donato alla società Gifra un defibrillatore installato nella sede di Corso Genova che verrà messo a disposizione per essere utilizzato dalle diverse compagini sportive che fanno capo allo stesso Gifra. Il suo dalizio fondato nel 1977 da padre Ringo, padre Gione e padre Costantino e che oggi conta oltre 200 tesserati. Il defibrillatore è stato consegnato dal presidente del club Battista Carena nelle mani di Fraluca alla presenza di Claudia Pivi, presidente della Croce Verde di Vigevano e del suo vice Vincenzo Battista. La consegna è avvenuta dopo che una ventina di giovani sono stati addestrati e licenziati dai volontari della Croce Verde locale. Era l'ultima notizia e tutto per questa sera. Come sempre grazie per averci seguito, non perdetevi il meteo subito dopo. Arrivederci.